Ci siamo! Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti in questa situazione molto molto ambigua di mercato. Ambigua perché da un lato ci sono troppi veramente troppi top signal, dall'altro c'è la mia volontà di rimanere bullish che scusate troppo in alto, anche la videocamera è bullish, puntava in alto, che mi dicono no no non puoi neanche pensarle queste cose, sempre bullish sulle cripto e sono molto combattuto, molto combattuto. Allora i top signal soprattutto li sapete anche voi, ve li condivido abbastanza spesso un po' ridendo, un po' scherzando, ma neanche troppo. Sapete che si dice che quando si inizia veramente a parlare da parte di chiunque di cripto e di bitcoin, anche di chi non ha né arte né parte, allora la situazione inizia a diventare un attimino tesa, unito al fatto che sono ormai da, quanto tempo è? Vediamo, è ormai qua, secondo me due anni abbondanti, che il mercato è in crescita, il che vuol dire che tutti sono in profitto, riflessione che avevamo già fatto se vi ricordate, e questo di solito, questa è una situazione che il mercato non tollera più di tanto, il mantenere tutti sempre in guadagno. Quando c'è una situazione così, di solito il mercato interviene con una bella ammazzata, una bella rattassata che punisce, punisce veramente tanti. E lì poi si vede chi veramente si merita tra virgolette di rimanere nel mercato e chi invece no, perché era soltanto qui alla ricerca del guadagno facile, si era illuso di poterlo avere, perché ripeto, chiunque poteva guadagnare da due anni a questa parte bastava comprare qualche cripto un po' a caso, in particolare le altcoin, perché guardate, la bitcoin dominance ha i minimi storici, siamo al 40%, il che vuol dire che le altcoin hanno performato ancora meglio di BTC, e non sto parlando solo delle altcoin con del reale valore intrinseco, come quelle che abbiamo seguito, analizzato tante volte, che quelle probabilmente poi rimangono buone a prescindere dalla fase del mercato, si deprezzeranno sicuramente in caso di bear market, ma lì ci aggrappiamo al valore intrinseco, io nelle mie analisi mi sono basato chiaramente su quelle e non solo sull'aumento di prezzo, ma ripeto, la stragrande maggioranza delle altcoin, a parte le peggio shitcoin, che vabbè quelle non sono neanche degne di essere menzionate, ma hanno portato guadagni, e queste sono situazioni che alzano veramente l'asticella del rischio. In particolare c'è una cosa che secondo me è ancora più estesa, il mercato è molto esteso di per sé, ma una categoria del mercato è particolarmente estesa. Sto parlando del settore gaming, NFT e metaversi, play to earn e tutto ciò che ci orbita intorno. Dico una premessa, è un settore che è il futuro, non c'è ombra di dubbio che in futuro metaversi, gaming, ma lo diciamo da sempre, anche da prima che diventasse un trend del genere, sono certo, senza ombra di dubbio, che sarà il futuro, il futuro andrà in questa direzione, ma sono altrettanto certo che adesso il mercato lo sta apprezzando come se fosse il presente, non il futuro, e questa situazione non mi piace nemmeno un po'. È un mercato esteso, quel settore lì è ancora più esteso, abbiamo visto multipli folli, sia su piattaforme e coin, che hanno dei fondamentali fortissimi come Sandbox, Decentraland, Axie e altri game particolarmente interessanti, insomma anche Star Atlas di per sé, ma ce ne sono veramente tanti. Hanno fatto dei multipli, nonostante comunque siamo ancora in una fase molto early per tutti quelli, no? E uno si chiede, ma se il futuro va in quella direzione lì, è legittimo oppure no un aumento di prezzo del genere. Secondo me, da un certo punto di vista sì, nel senso che il mercato comunque un po' sconta il futuro, ma dall'altro c'è il rischio che ci sia un sovrapprezzo effettivo, no? Per la situazione in cui ci troviamo, potrebbero volerci anni per arrivare a maturazione di un mercato così innovativo. In parallelo, vi stavo dicendo, oltre a questi game metaversi dotati di forte valore intrinseco e che non ho dubbi che sopravvivranno e dimostreranno valore, anche se l'interrogativo prezzo c'è sempre, perché prezzo e valore sono difficili a volte da collegare, ci sono anche una quantità industriale di games che nascono come funghi, sono veramente le nuove ICO. Ogni giorno 10 launchpad di roba play to earn, 10 altri launchpad di roba legata agli NFT, altri 20 legati ai metaversi, nascono come funghi e io credo che il 99% di essi tra un anno o due non esisteranno nemmeno più. E questa situazione mi ricorda molto le situazioni di top, le zone di top, dei cicli precedenti. Quindi io ho preso una decisione, abbastanza forte di cui magari mi pentirò, che è stata quella di vendere tutte le land e gli NFT legati a questo settore che possedevo. Ora mi sbranerete, sono certo che mi sbranerete perché no le land non si vendono, non si toccano, c'è questo mantra. Ce l'avevo anch'io questo mantra, no? Le mie idee iniziali era quella di non toccarle mai, ma per me questo è un hedge, è una specie di hedge, una copertura contro la possibilità, perché non ho ancora la certezza, che ci sia un eventuale bear market. Partiamo dal presupposto che la compravendita di queste land, io ne avevo pochi di NFT, ve l'ho detto, avevo delle land su The Sandbox, su Axie e su The Central Land, che avevo preso un bel po' di anni fa, quando avevo fatto il video su The Sandbox ve l'avevo condiviso proprio, e alcuni Axie pure. E sono stati tutti molto profittevoli perché di fatto il trend c'è stato. Ma adesso ve l'ho detto, ci troviamo in una situazione, secondo me, molto estesa e a rischio, a forte rischio, di bear market, non solo per il settore metaversi, gaming ed NFT, che secondo me sarà quello più colpito, ma questo è una cosa a parte, ma a cascata anche di tutto il resto. Bear market, che secondo me non vuol dire il tornare a mille dollari o chissà che cosa, vuol semplicemente dire un mercato che non continua a salire, come ha fatto in questi anni, ma è un po' dormiente. Io mi aspetto uno scenario del genere, come più probabile, se dovessimo andare in bear market. Dico se perché la struttura è ancora intatta, adesso poi ci arriviamo. Ma volevo fare questo noioso preambolo per dire che secondo me, se c'è un mercato esteso, molto esteso e molto pericoloso al momento, è quello di NFT, metaversi e gaming. E quindi io ho voluto fare un passo indietro come mia mossa di difesa personale. Lo sapete, io vi condivido con la massima trasparenza e onestà quello che faccio, ma non voglio dare consigli di che cosa fare, perché io vi sprono sempre a ragionare con la vostra testa. Ma ogni tanto lancio qualche pensiero controcorrente proprio allo scopo di innescare la riflessione. Adesso si parla solo ed esclusivamente di metaversi. Il video che ho fatto sui metaversi è il video più visto degli ultimi, credo, tre mesi, quattro mesi. È stato il topic più caldo, ne hanno parlato tutti, veramente chiunque, complice il nostro Zook che ha rebrandizzato Facebook, è partito tutto da lì. Ma non è il momento di avere tutta questa fomo su questo settore, perché è un settore ancora distante nel tempo. Adesso non dico che è dovera sei mesi fa, perché siamo comunque più avanti, ma non è neanche in una situazione da dire caspita già mainstream, già... insomma siamo in bolla, ve lo dico onestamente. Secondo me il metaverso è molto in bolla. Questo è il mio personale pensiero. Io poi magari mi sbaglio e tra sei mesi queste land varranno altre cento volte di più e voi mi direte sei stato un pirla. Io vi dirò avete ragione, ne sono stato un pirla, ma sono disposto a corrermi questo rischio, perché comunque sono esposto sulle crypto, non è che ho venduto tutto, ho venduto solo quello, e ho voluto ridurre un po' l'esposizione. Ecco, un edge, una copertura, una prima copertura, immaginatevi come se fosse una shorta, una sorta di rafforzamento allo short di copertura, ecco. Non però sulla crypto stessa, ma come take profit sugli NFT che secondo me sono in zona top del loro ciclo. Questa è la mia personale opinione, io chiaramente vi chiedo cosa ne pensate, perché voglio uno scambio di opinioni con voi e detto questo, scrivetemi nei commenti, poi in chat e tutto quanto la vostra opinione, ma detto questo non siamo ancora in bear market, non voglio fare il lucellaccia del malaugurio, perché ultimamente ci scherzo molto, ma io di solito ho questo approccio, visto che comunque il seguito dei miei canali è abbastanza alto, io cerco di lanciare qualche frecciatina che possa far riflettere, quindi quando tutti continuano a dire to the moon, to the moon, by the deep, che sono cose che bisogna fare attenzione a fare ogni tanto, perché si rischia veramente di farsi tanto male se ogni volta che scende un po' by the deep, by the deep, by the deep, cioè non è l'approccio sempre giusto, allora io a volte butto lì la frecciatina, top signal, bear market, anche se poi quando facciamo l'analisi obiettiva cerchiamo di essere razionali e dire le cose come stanno, ma l'obiettivo è veramente innestare riflessione, cioè pensate non sempre solo al salire to the moon all'infinito, che è la cosa che ci piace di più a tutti, è chiaro, perché cosa c'è di più bello che aprire il wallet e vedere dei numeri verdi, delle cifre che salgono, i grafici che s'allungano e cielo duro e cose del genere, ma è sempre bello, ma purtroppo la realtà a volte non è così, bisogna essere in grado di affrontare anche quelle situazioni, quindi mi raccomando rifletteteci sempre. Ora, passando alla nostra parte razionale e meno gufosa, non siamo ancora in bear market, siamo ancora in una situazione di equilibrio, abbastanza equilibrio, perché il macro è questo ed è palesemente bullish, ok? Abbiamo il nostro low famigerato qua giù, aspettate che avvicino il microfono che non vorrei che si sente poco e male, eccoci, allora abbiamo il nostro low qua giù a 43.200 e adesso stiamo andando a capire se vogliamo di nuovo andarlo a toccare, sto benedetto low, e quindi fare un equal low con una punta del genere, non è bear market, ma comunque capite che rallenta la situazione, cioè già questa fase ribassista, io comunque vedo anche l'interesse pubblico, perché vedo le statistiche del canale e dei miei social, vedo che si è asciugato parecchio, già con una lag down del genere che non è particolarmente dannosa, impegnativa, cioè è un ritracciamento per ora, no? Che non ha neanche fatto un lower low su scala macroscopica. Io credo che, ecco, una fase di euforia potrebbe essere alternata ad una fase un po' più arida da un punto di vista di difomo generale, no? Di interesse generale. Ma adesso dobbiamo capire se appunto andare a fare il nostro equal low e quindi rallentare ulteriormente, perché poi ci potrebbe essere il rimbalzo e dobbiamo andare a cercare l'high, se facciamo un lower high, tac, abbiamo equal lows e lower highs, abbiamo una sorta di triangolo ribassista, non benissimo. Se invece dovesse arrivare, scenario bullish, dovesse arrivare della bella domanda con la D maiuscola e andare a mangiarsi questo dip, no? Quest'ultima parte, perché per me questo era il range di riferimento dell'ultima settimana. Questo è un po' l'ultimo dip che se viene confermato ha alta probabilità di andare a finire qua. Se invece la domanda entra in gioco e inizia a spingere, spingere come solo lei sa fare e ci andiamo a riprendere i 52.000, allora bene abbiamo fatto un higher low, il che è molto meglio come punto di partenza rispetto a un equal low. Chiaro, poi ci potrebbe anche essere un lower low, non l'ho neanche voluto dire per scaramanzia, ma se dovessimo scendere e scendere fin qua, tac, abbiamo un lower low e quindi la possibilità poi, la probabilità maggiore è che si sviluppi una cosa di questo tipo. E questo credo che potrebbe andare avanti a durare anche comunque qualche mese, ma anche magari per l'anno 2022. Insomma bisogna vedere poi come si delinea l'intera struttura. Sta di fatto che adesso è il momento in cui dobbiamo capire questo primo step, cioè equal low, lower low o higher low. Iniziamo a definire un attimino questo primo rimbalzo. Vedete che i volumi si stanno un po' inaridendo, guardate sul giornaliero abbiamo comunque una flessione. Le news, i media, non so se avete notato ma stanno volgendo più al negativo, ha visto che si parla di ban, di qua, ban di là, insomma si parla più negativamente. Sono quelle classiche situazioni, lo sapete meglio di me, quando va tutto su le cripto sono il futuro, quando iniziano a correggere arrivano gli avvoltoi dei giornalisti a dire le cripto sono il male, ban di qua, ban di là, riciclaggio, mercato nero e chi più ne ha più ne metta. Quindi non lo so, mi sembra di essere un po' in questa fase qui e sono curioso di vedere come si risolverà, perché vedete adesso in realtà abbastanza debole questo canalino ribassista. Volumi decrescenti, ampiezze decrescenti e soprattutto guardate c'è una sorta di appiattimento dei bottom, tac, vedete così. E questo, non vorrei fare il troppo bullish in questo caso, ma questo è un segno comunque che l'offerta è fiacca, è un attimino fiacca, quindi se la domanda, ripeto, fa un bel ingresso a gamba tesa ora, è il momento in cui potrebbe veramente vincere e andare a cercare un po' di equilibrio e non lasciare tutto in pasto all'offerta. Quindi stiamo a vedere, sul settimanale, ve l'ho detto, abbiamo chiuso sotto a questo livello 47.2, abbiamo retestato, toc, testatina, e adesso, vabbè, non è ancora definibile un bearish retest perché questa candelina è insignificante, però vedete la testatina l'abbiamo data, quindi vediamo come si risolverà. E questo è un po' il quadro della situazione attuale di mercato. Se andiamo a vedere la total market cap, che è più eloquente, vedete che dice le stesse cose. Dice le stesse cose in quanto abbiamo un downtrend al momento lineare, che è questo, appiattimento dell'offerta, guardate anche qua, queste sono cose, sono tracce che vanno sapute cogliere, vedete? Opla, qua, il downtrend si è affievolito, non da sopra, ma da sotto sì, quindi, non lo so, qualche segno, qualche impronta di equilibrio, di potenziale accumulazione. Ripeto, da prendere con le dovute pinze, non è il segno di farollino, di aprire posizioni, ma è un segno da tenere in considerazione. Mentre, no, scusate, ho sbagliato, daily sempre, mentre vedete che il supporto a 2 trillion è sempre più vicino. Vi ricordate il discorso dei blocchi, no? Avevamo questo blocco che abbiamo perso, quest'altro blocco che ormai stiamo, ci stiamo giochichiando dentro, poi se lo perdiamo entriamo qua dentro, tra gli 1,75, i 2 e poi, vabbè, si procede, no? Finché i blocchi sono decrescenti, siamo in ritracciamento. Quando ritorniamo, no, invece a progredire, a rialzo sui blocchi, blocco dopo blocco, ritorniamo in una situazione più crescente. Questo è un quadro generale che la Total Market Cup ci può dare ed è un grosso aiuto, secondo me, proprio una visione panoramica dell'intero mercato, altcoin e bitcoin insieme. Nonostante ciò, ci sono alcune coin di cui sono particolarmente fan in questo periodo, come Luna, che anche in USDT, nonostante la situazione, ha fatto nuovi massimi. Io sarei quasi contento di vederla ritracciare, Luna, perché vorrei veramente abbassare il prezzo medio di carico anziché alzarlo in una fase del genere. Però, ragazzi, veramente un asset potente in questo periodo. E gli altri asset di questa famiglia, tra virgolette, sono Solana, che come sempre, insomma, tiene bene botta. BNB ultimamente sta tenendo abbastanza bene botta anche lui. Questi sono contro BTC, contro USDT, Luna è inarrivabile. Avalanche pure lui sta tenendo botta alla grande e sono quelli di cui abbiamo parlato ultimamente, no? il layer 1, il layer 2, insomma, quelle, diciamo, le piattaforme, i base layer. Non le sovrastrutture, ma ecco, quelle hanno sempre il loro valore, perché di fatto la loro adozione e la liquidità presente su DS sta veramente crescendo. Poi, niente, torneremo meglio sui grafici alla fine, anche con i vostri commenti, a cui tengo molto, ve l'ho detto. Adesso vi faccio una rapida carrellata di notizie per essere sul pezzo e poi, appunto, procedere verso la sezione Q&A. Prima cosa, per alietarvi un po' questo periodo, no? Di grafici noiosi, tutto noioso, tutto pesante, facciamo il secondo giveaway del Ledger Nano X, che è qua, è sotto la sorveglianza, è qua, sotto la sorveglianza di Charmander, che, insomma, è qui. Spero che non lo stia buono con questa coda, perché altrimenti ci dai fuoco e la parola Hot Wallet poi assume tutto un altro significato, ma è pronto per essere claimato da voi, non come un NFT, ma con queste semplici regole. Quindi like, retweet e follow su Twitter, iscrivetevi a YouTube e a Telegram, trovate i link in questo secondo tweet e commentate semplicemente il tweet dicendo Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei odlare e dite la vostra cripto e perché. Che ne so, quest'anno vorrei odlare Flochino, perché così il mio wallet va a zero. Questa potrebbe essere una risposta, spero non la vostra, ma tutto è possibile. E niente, buona fortuna, vi condivido, tac, qua dentro, qua sotto, il tutto. E niente, domani sceglierò il vincitore e via, si vola, si procede. Poi, cosa abbiamo qui? Ah, ecco, ecco, guarda, gli unici NFT che non ho venduto sono i miei Unstoppable Domains. Perché? Un po' perché sono i miei, chiaramente, quindi non li vendo manco morto, i miei The Crypto Gateway, punto, quello che è. E ho visto, stavo guardando una nuova dashboard su Dune Analytics, di cui mi sono innamorato per l'analisi on-chain, è fantastico. E ho visto che ci sono alcuni numeri interessanti. I domini punto cripto sono nella top 100 per numero di domini registrati, con 800.000, sopra ai punto io, che sono solo, cioè solo, che sono 796.000. Questo fa capire che c'è veramente un'adozione pazzesca di questi domini. Io qua ho letto 1.7 milioni di domini registrati. È un numero che, non lo so, fa riflettere. E proprio per questo è un mercato, secondo me, che vale la pena, no? Sia che si voglia creare la propria presenza sul Web3, quindi su Ethereum, Polygon, adesso ci sono anche su Polygon, a zero mining fee e zero fee di gestione. E in sostanza si può creare il proprio dominio, che diventa un po' il proprio mondo on-chain, no? Ci si lega i wallet, quindi gli address direttamente al dominio, quindi vuoi mandarmi Ether, vuoi mandarmi crypto, quello che è, anziché mandarli all'address che devi copia e incollare tutto, li mandi a luca.crypto, che chiaramente non c'è, ma decryptogateway.crypto o il vostro, nel caso vostro. Poi sarà un dominio a tutti gli effetti, c'è una sorta di DNS che li gestisce, è una cosa ancora da implementare per bene, ma si potrà costruire un sito in sostanza unstoppable, quindi non censurabile. E poi c'è chi semplicemente li scuotta. Ci sono persone che, ho guardato su queste di un analytics, ci sono alcuni che hanno, che possiedono migliaia, guardate, 16.000 domini, 13.000, questi sono degli squatter seriali, secondo me, ma perché poi alcuni sono in vendita su OpenSea e so che ci sono dei giri interessanti, anche lì io non ci capisco una mazza, di squatting di domini, ma sicuramente hanno il loro perché. E quindi, niente, questo è quanto, secondo me è molto molto interessante, e se vi dovesse interessare approfondirli, aspettate che ho un referralino per voi, tic tac, ve lo giro immediata subito, eccolo. Così da vedere cosa sono, come funzionano e se vi possono interessare. Poi procediamo con Abracadabra, che arriva anche su Polygon, ma non solo Abracadabra, ma anche Uniswap, che figata, Uniswap V3 e Abracadabra su Polygon, ma tra l'altro Uniswap V3 vuol dire che arriva anche Popsicle, cioè Polygon, secondo me, è pronto per una seconda rush, ma non il Tokenmatic, perché, vabbè, il Tokenmatic non lo seguo più tantissimo, a dir la verità. Fatemi vedere un po'. Vabbè, no, sta andando bene anche il Tokenmatic, perché è ripartito in... Adesso ha fatto un equal high qua, qua c'è il suo low, quindi adesso potrebbe andare a fare un costrutto del genere, ripartire, ma è messo bene, è messo bene, direi, ma al di là di questo, io ero bullish più sull'ecosistema Polygon, perché ci arriva tanta liquidità. Abracadabra adesso porta veramente tanta liquidità, e Uniswap, ragazzi, Uniswap è il DEX, non c'è paragone con Quickswap, che c'è adesso su Polygon, quindi tanta roba. Poi se ci arriva Popsicle, che è l'ottimizzatore, non so se avete mai usato Popsicle, ma la combo su Ethereum adesso è Popsicle con... Aspettate, che ve lo faccio vedere, che è più chiaro. Connettiamoci. Metamask. Molto bene, molto bello, dai, forza, forza, ce la possiamo fare. Ci sono dei pool, in sostanza Popsicle è un ottimizzatore di liquidità su Uniswap V3. Uniswap V3 di per sé va scelto in range di prezzi in cui mettere la liquidità. Popsicle la continua a spostare per ottimizzarla, cioè ti concentra la liquidità laddove c'è maggior rendimento in maniera intelligente. Molto bene, se solo si caricasse ve lo farei vedere. Ma sono confidente che ce la facciamo. Intanto un po' d'acqua ghiacciata e passa tutto. Eccoci qua. Allora, ci sono dai pool più esotici come Shiba Ether, ci sono anche dei pool di stablecoin, pool di stablecoin che si sono abbastanza saturati purtroppo, come MimUSDC, MimUSDT, USDC, USDT, UST, USDT, eh, si sono molto saturati, eh, sì, 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 abbastanza, ma dipendono fortemente dai volumi. E ci sono alcuni pool invece sempre ottimi come VBTC e TH, VBTC e USDT non sono un grandissimo fan. Poi cosa abbiamo? Soprattutto per le principali alte, FTM e TH, adesso si sono molto abbassati perché i volumi, secondo me, sono calati brutalmente. Molto, molto brutalmente. Ma questo cos'è? 101 milioni di TVL attuali? Non capisco. Mi ricordo che un mesetto fa quelli sulle stable erano intorno al 50-60%. Comunque vale la pena tenerli d'occhio. E pensate a tutto questo su Polygon, senza le fidi Ethereum. Ci sono veramente dei pool ogni tanto che saltano fuori molto, molto validi. Vengono selezionati, penso, proprio in base alla liquidità che hanno. Non è che li portano dentro tutti, però sono senz'altro validi. Poi, niente, anche uniswap arriva, è tutto molto bene. Eccoci qua, eccoci qua. Non so se oggi avete provato ad accedere a Gate.io, ma è stato oscurato, assieme anche a PrimeXBT, perché ho visto che c'è l'annuncio, cioè c'è il warning, no? Sul sito della Consob, se lo guardate. E' stato oscurato proprio perché è non compliante con le loro normative. Credo che sia sempre sull'onda, no? Del discorso dei derivati. Su Gate.io non mi sono informato particolarmente. Su Prime, visto che qualcosa io ci avevo lì, ho guardato e ho visto, c'è un annuncio sulla loro community che hanno detto che stanno parlando, con i regulator, e nel frattempo mi pare che ci sia un... hanno creato un dominio temporaneo alternativo per chi vuole accedere lo stesso. Quindi, insomma, si può avere accesso lo stesso ai fondi se li si hanno lì. Personalmente, finché non si placano le acque e non si capisce bene in che direzione si va, io credo che farò un passo indietro e aspetterò una... insomma, delle comunicazioni ufficiali della posizione dell'uno e dell'altro per non utilizzare piattaforme comunque non autorizzate che ha comunque sbagliato e non autorizzato per l'appunto. E quindi, questo è quanto. Mentre Gate.io non lo so se c'è qualcosa in corso, se stanno dialogando anche loro oppure no, ma credo che, cioè, ripeto, il discorso è un po' questo voler... non so come definirlo, perché non c'è una regolamentazione, no? per i derivati sulle cripto. E quindi, anche se uno volesse prendere la licenza, uno si chiede, ma che licenza devo prendere? Che non esiste nulla. Cioè, cosa... come mi devo comportare? E infatti, molti come Binance, Crypto.com, hanno detto, io tiro via i derivati in Italia, non li posso più erogare. Chi li ha continuati a erogare? Questi due esempi adesso hanno avuto l'oscuramento. Gli altri exchange, so che si stanno tutti muovendo, perché FTX lo seguo io in primis e so che comunque quello che fa lo fa bene, lo fa in regola. Wobi uguale, Bybit uguale, però, non lo so, sono curioso di vedere quello che sarà l'esito finale, no? Di questo tentativo di mettersi, non lo so, nel giusto, perché gli exchange hanno interesse a farlo, ma se le normative non ci sono, c'è sempre questo punto interrogativo, che, bah, non lo so, è una cosa un po' tutta italiana, anche questa, non ci sono regole, ma non sai come muoverti, ma le cose non le puoi fare, che dire, non so proprio cosa dire, non so davvero, mi mancano le parole a volte. Poi, procediamo, parachain ufficialmente lanciate su Polkadot, le prime cinque sono attive, sono partite questo weekend, stiamo parlando di Akala, Astar, Clover, Moonbeam, e Parallelfinance, quelle che, insomma, non so se avete seguito Asta per Asta, non sono finite, le Aste, perché ce ne sono altre in corso d'opera, ma queste prime sono state attivate, è la prima batch di attivazione, quindi, molto bene, il nostro Polkadot, nostro, no? Perché io non ne ho, in verità, ma, comunque, mi piace Polkadot, non ho mai nascosto, di seguirlo con interesse, non abbastanza interesse da averlo, ma, comunque, da definirmi bullish, a lungo termine, su Polkadot, prima o poi capirò come integrarlo, e, al di là di tutto, ecco, le abbiamo seguito un po' alla volta, abbiamo parlato anche delle varie parachain, queste le trovo tutte interessanti, e, le avevamo anche approfondite in un video, mi pare, all'inizio, proprio della fase di Asta. Poi, a Dubai, invece, noi abbiamo le nostre mancate regolamentazioni, ma non puoi fare le cose, a Dubai, invece, loro sono stravanti, nel bene e nel male, qualcuno può dire, ma, loro adesso stanno creando una crypto zone, nella free zone, che è il World Trade Center, dove vogliono creare proprio un polo, dedicato al creare regolamentazioni, e un framework, per i business, che erogano servizi in crypto, quindi, magari exchange, provider, di vari servizi finanziari, e quant'altro, e, proprio per attirare dei business, attirare capitali, cioè, vedi, chi è furbo, chi è furbo cosa fa? Attira i capitali, perché il capitale ti porta capitale, quindi, hai bisogno di quello, non di dire questo no, questo no, questo no, cioè, devi essere veloce, al passo coi tempi, fare le cose per primo, farle bene, e liberamente attiri il mondo poi, ma qualcuno non lo capisce, e poi Popsicle l'abbiamo già visto, quindi abbiamo terminato, e quindi adesso, teniamo dietro il nostro graficozzo, del bitcoin, e passiamo la parola a voi, oppla, fatevi avanti, fatevi avanti, allora, ciao Luca, grazie per tutto il lavoro che fai, ti seguo da marzo, e mi ha aiutato a seguire i tuoi video, mi fa veramente piacere, e, veramente, veramente piacere, perché, insomma, in un momento di, troppe euforia, e rischi come questo, è importante rimanere coi piedi per terra, come si fa a investire su un stoppable domains, c'è un token, e in realtà il token no, non ancora, perché qualcuno vocifera, di potenziali airdrop, ma, si può acquistare i domini, si può acquistare i domini, se li, se si è interessati, direttamente dal loro sito, come quando compri un dominio, .com, .it, tu vai sul, su Godaddy, su Google Domains, o quello che è, su Namecheap, e vai a mettere il nome del dominio, e lo acquisti, esattamente la stessa cosa, su Unstoppable, e i prezzi dei domini, variano in base, esattamente come nei domini normali, in base al livello di, a quanto è premium il dominio, ad esempio, bitcoin.crypto, non credo che esista, non sia vendibile neanche, ma, non lo so, tipo, luca.crypto, luke.crypto, costa molto di più, di decryptogateway.crypto, perché sono domini più premium, ok? Ecco, questo è il discorso. E dunque, luke, che ne pensi del momento che sta passando Wonderland? Guarda, ti dico la verità, se per momento che sta passando, tu intendi il ritracciamento del valore di time, era una cosa scritta, è una cosa scritta, non è assolutamente una novità, spero che nessuno si aspettasse un valore costante di time, perché la prima cosa che abbiamo detto su queste piattaforme è il token è fatto per dampare nel tempo, c'è una diluizione astronomica, quindi il token è fatto per dampare. Qui, la teoria dei giochi si basa sul time all'interno della piattaforma, quindi una variabile è quanto a lungo pensi di rimanere, una variabile è il prezzo di time, ma tu sai che la selling pressure è crescente nel tempo, è una certezza, perché hai una diluizione con l'APY che c'è folle, una diluizione del genere, a meno che non generi domanda da capogiro, ma come fai a generare una domanda che vada a sostenere un APY di questo tipo, riflessione da fare, chiaramente il token dampa, il token decresce di prezzo, cioè è fatto per essere in downtrend perenne in sostanza, tuttavia se si verificano certe condizioni con un tempo, un intervallo di tempo abbastanza ampio, allora lì c'è una, si può fare dei ragionamenti, sempre comunque in modo sperimentale, in modo high risk, maximum risk anzi, perché questo per me è gambling, e ragionare di esporsi in questa direzione, ok? Qui non è tanto un compro time, perché mi aspetto che aumenti di prezzo, no, io mi aspetto che cali di prezzo, e tuttavia, sapete, la domanda c'è perché è una piattaforma abbastanza ipata, forse anche troppo, ed è questo il motivo per cui il prezzo di time è salito a lungo, io ho visto video di bananari, che non hanno né arte né parte, che si sono improvvisati cripto esperti, col titolone, guarda quanto ho guadagnato con Wonderland, ecco, quello ti fa capire che magari siamo in una situazione un pelino estesa, e quindi ecco, questo è un po' il discorso, comunque è una piattaforma con il suo perché, non, insomma, c'è dietro un ecosistema in sviluppo, in crescita, una DAO sempre più grande, c'è Daniele che io stimo molto, quindi questo discorso non cambia, però la tokenomics tenetela a mente, no, quando ragionate sul prezzo futuro di time. Poi, ciao Luke, qual è la differenza tra DAI, USDC e USDT? perché ho visto che LP token con DAI hanno degli APR più alti, allora, la differenza in sostanza, vabbè, soprattutto tra DAI e USDC OT, che sono più o meno simili come struttura, è il fatto che DAI è decentralizzata, cioè non ha dietro una riserva di dollari, un collaterale in dollari, ma come collaterale del collaterale, cioè posizioni di debito, no, Ethereum, altri token, molti USDC, quello è il collaterale su cui si basa il valore di DAI, mentre USDC e USDT sono collateralizzati uno a uno con dollari americani, USDC, c'è dietro Circle, super regolamentato e più trasparente, USDT, io non sono fan delle critiche a USDT, io non penso che sia pericoloso, non più delle altre classiche stablecoin pegate al dollaro, ma si dice che sia un po' meno trasparente, un po' più evasivo per quanto riguarda le giurisdizioni, questa è un po' la principale differenza, io personalmente le uso tutte e tre senza farmi troppi cruci, ecco, poi che ne pensi della copiata Cro-VVS, Cro-VVS dà un rendimento buono, ma attenzione perché VVS è un altro token estremamente inflattivo, e quindi con una selling pressure non indifferente, occhio, 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 fate i bravi, ciao Luke, piccolo piano d'accumulo per il 2022 sull'ecosistema Cosmos, allora domani vi butto fuori un video, che non so ancora se intitolare, e devo decidere quale clickbait funziona meglio, no sta scherzando ovviamente, ma in sostanza sono 5 coin che secondo me vale la pena tenere d'occhio nel 2022, per vari motivi, e c'è dentro Atom, vi faccio questo spoiler, ma non andate a fare APIN su Atom, perché è un ragionamento di carattere fondamentale, se poi il 2022 va in bear market, tutte 5 faranno schifo, perché il bear market colpisce tutte, e quindi questo è un po' il discorso, del fondamentale, e ce ne sono due che vi stupiranno, secondo me, quindi non perdetevelo domani, e domani sera c'è anche la live con gli Avengers ragazzi, domani giornatona, giornatona folle, poi 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 poi, cosa abbiamo di bello, qua mi si sta frizzando Twitch, spero che non succeda anche a voi, ma vabbè, analisi Anchor Protocol, bravo Anchor Protocol, giusto, mi stavo dimenticando, mi stavo dimenticando che, cos'era, Mirror Tracker, tac, la, eccolo, la Yield Reserve di Anchor, è in decremento, cosa vuol dire, c'è da preoccuparsi, no, non collassa Anchor Protocol, state tranquilli, non succede nulla, la cosa peggiore che può succedere, è che si riducono gli APY, perché, perché in sostanza, la Yield Reserve, ne abbiamo parlato tante volte, ma è importante capirlo, perché Anchor è una piattaforma, che so che è molto utilizzata, ed è proprio quello che, aspettate, ed è proprio quello che influisce, sull'APY e sulla Yield Reserve, quando, aspettate che arriva il grafico, eccolo, quando i depositi, che sono gli USP in earn, che ottengono rendita, e i borrow crescono di pari passo, abbiamo una situazione sostenibile, anche a lungo termine, quando c'è divergenza, del deposit contro il borrow, che è una situazione, che capita soprattutto, nei mercati ribassisti, dove c'è forte domanda, di stable coin, forte domanda, di abbassamento del rischio, e forte domanda, di rendita, sulle stesse stable coin, quello che accade, è che quello che viene pagato, a chi deposita, è maggiore dell'utile, della piattaforma, proveniente dal borrow, e quindi cosa succede? Succede che cala la Yield Reserve, la Yield Reserve, serve per, come volano, come cuscinetto, utilizzato da Anchor, per pagare, quando gli introiti, in tempo reale del borrow, sono minori, delle spese, dell'earn, ok? Abbiamo questa Yield Reserve, che si gonfia, se il borrow paga più, la piattaforma, di quanto la piattaforma, paga gli earn, mentre si sgonfia, se gli earn, vengono pagati più, dell'utile della piattaforma stessa, quando lo Yield Reserve, scende, 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 tende a zero, se arriva a zero, è un problema, cioè non ci deve arrivare a zero, altrimenti, la piattaforma, non può più pagare tutti, e deve immediatamente, abbassare l'APY, come fanno le altre, le classiche landing, il cui APY varia, perché non hanno, questa Yield Reserve, suave, ogni giorno, c'è un APY diverso, e quando c'è poca domanda per il borrow, l'APY crolla, collassa, e si arriva anche a pochi punti percentuali, per la stable coin, avete visto prima, su Popsicle, che c'erano i pool, stable, stable, con un APR del 6-7%, è bassissimo, per un pool di stable, ve l'ho detto, prima era il 40-45, non so, aave e simili come siano, ma secondo me, siamo in questa direzione, possiamo andare a darci un'occhiata, per curiosità, su, sempre su Ethereum, che è il mercato più grosso, PAM, eccoci qua, allora, DAI, ad esempio, DAI il 3%, USDC il 2,29, USDT il 3%, vedete, siamo in un mercato, dove c'è poca domanda, per il borrow di stable coin, perché i mercati ribassisti, sono fatti così, c'è meno domanda, per il borrow, perché uno non ha bisogno, di liquidità, per entrare nel mercato, ma uno questa liquidità, la dà, perché è esposto in stable, c'è più esposizione in stable, che in asset volatili, questa è la fase ribassista, e quindi, quello che accade ad Anchor, è che la yield reserve decresce, quindi, come si può andare ad affrontare, una situazione di questo tipo? Idealmente, se la yield reserve decresce, anche per 2-3 settimane, e poi risale, poi ridecresce, non ci importa, l'importante è che non si azzeri, però, chiaramente, se andiamo incontro a un trend, dove la yield reserve decresce a lungo, allora, o in qualche modo, si incrementa il borrow, o si decrementa la quantità di deposit, cioè si disincentiva il deposit, oppure, viene riempita a mano, cioè, il Terraform Labs, il signor Do Kwon, va lì, mette la sua paghetta, all'interno della yield reserve, come ha fatto in passato, una volta è successo, e la risala, la riaumenta, ok, la rende ancora sostenibile, e magari, ci sarà una proposal, nella governance di terra, per andare a dedicare, parte dei fondi, alla yield reserve, vediamo, 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 ma, di fatto è, il fatto è che adesso, non c'è da preoccuparsi, da dire, boh, domani, cala gli APY, aiuto, che succede, che succede, se andiamo avanti a lungo, con una situazione del genere, considerando che il borrow, non paga, adesso, perché se voi andate per borroware, su Anchor, è negativo, quindi non c'è tutto, sto incentivo a borroware, e di conseguenza, se il, vedete, se i depositi, continuano ad aumentare, o anche restano costanti, e il borrow non aumenta, allora, è inevitabile, che qualcosa deve succedere, no, di quello che abbiamo detto prima, un altro modo, sarebbe pompare, le reward di Anch, sui borrower, per offrire, un incentivo in più a borroware, cioè se il borrow adesso, anziché negativo, pagasse il 10%, vedete che, tra una settimana, opla, così, il borrow aumenta, in maniera esponenziale, subito, e, e quindi, si tornerebbe a riempire, le tasche di, di Anchor, e della Yield Reserve, e avremmo degli APY più sostenibili, altrimenti, la soluzione è abbassare un po' l'APY, in base a quanto diverge, il, il, il deposito esponenziale, e il borrow, che al momento, sembra abbastanza costante, e, fare sì, che, con quel nuovo APY, la Yield Reserve rimanga stabile, o comunque, continui a crescere. Sono curioso di vederlo, perché questo è il primo stress test vero, che farebbe Anchor. Non ho paura minimamente, del fatto che possa diventare insoddente, perché, comunque, la struttura ce l'ha, ma, ve l'ho detto, il massimo rischio, il massimo, la conseguenza massima, potrebbe essere l'abbassamento leggero degli APY, e è un bel esperimento, molto interessante. Poi, procediamo, procediamo. Cosa ne pensi della Coin Cake? Cake interessante, soprattutto per il suo Auto Cake, tutto quello che ci ha costruito intorno, ma al momento, purtroppo, il trend non è proprio dei migliori. C'è da vedere, se questo spunto, no? Tac! Questo colpo di reni, questo impeto di vitalità, fa un bottom, e va quindi adesso a recuperare un po' di supporti, oppure no. Però, capite bene, che abbiamo fatto un downtrend talmente duraturo, che ce ne vuole, per dare un po' di segno di vita. Cioè, la prima cosa che vorrei vedere, miseria, no, qua o torniamo sopra i 3.600, oppure aspettiamo di fare poi un higher low un po' fatto bene. Però no, per il momento non mi ispira Cake, sinceramente, non mi ispira. Analisi DOT, andiamo a vedere, DOT, DOT, eccolo. Allora, purtroppo non benissimo, perché sta affrontando 5.100, questo livello chiave, e se lo perde, vedete un po' che andiamo, nuovo target a 3.800, quest'altro supporto, c'è un po' da vedere poi come si comporta qua, se rimbalzo oppure no, ma adesso è nella fase, vedete, decrescente DOT. quindi non fa parte di quelle altcoin che vi è in voglia di seguire, ecco. Questa è un po' la mia opinione. Mi aspettavo risposta migliore da DOT dopo il lancio, ma guarda, considera che buona parte del discorso parachain, eccetera, era molto, cioè già apprezzato, quindi attenzione, attenzione che, non è che quando succedono le cose il prezzo reagisce, spesso ha già reagito prima. Allora, ciao Luca, per le stablecoin consigli, mai, mai, io non consiglio niente, niente, ragionate, di fare un all-in con UST su Anchor, o fare 50-50 con UST su Ave, Matic, dipende, dipende da, da cosa sei disposto a fare, cosa vuoi in cambio, quanto vuoi diversificare, che capitale hai, ragionaci, ti posso dire che sia Ave che Anchor, sono ottime piattaforme, non sono le uniche, perché volendo c'è anche dell'altro, ma, mi sembrano due, due buone scelte, cioè ragiona tu in base ai vari parametri, non ti posso dire, fai così, fai così, poi, dove siamo finiti, perché non posso fare bridge da ETH su Avalanche, sì che puoi, certo che puoi, non è sempre EVM, certo che è EVM, è assolutamente EVM, e ci sono i bridge, ci sono assolutamente, c'è anche il semplice Avalanche bridge, c'era da Ethereum ad Avalanche, con un pump sui 52k, e reject sulla resistenza, è possibile, questa era una risposta, di chi dice, ma solo io vedo un inizio di pattern, test e spalle, sul grafico settimanale, allora, beh, guarda, possibile, possibile, se questa è la neckline, questa è la testa, tac e tac, ma di fatto, non sarebbe altro che un, equal low e lower high, no, quello che abbiamo detto, quindi, è poi chiaro che se lo rompiamo a ribasso, è invalidato, abbiamo il lower low, quindi, non è che serve andare a professare il test e spalle, cioè, di fatto, è un costrutto di offerta, sarebbe un costrutto di offerta, assolutamente possibile, purtroppo, queste punte, fatte così, lasciano un po' l'amaro in bocca, dunque, 50 minuti, mannaggia, 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 ciao Luca, analisi Atom, bruttissimo il grafico di Atom, ti spoilerò già, va che roba orribile, no, scherzi a parte, i low non sono malaccio, perché, adesso c'è da vedere dove sarà il prossimo, ma, questi due sono crescenti, gli high sono folli, questo high, completamente folle, ma anche questo, cioè, non capisco come mai, fa questi pump, che poi vengono puntualmente, soppressi, clamorosamente, e poi li rifà, soppressi, non lo so, non capisco, brutto il grafico comunque, è un grafico sul quale farei anche fatica ad operare, vi dico la verità, con tutti questi spike, tutti questi movimenti, non lo so, non lo so, non lo so, non ci andrei a andare a fare chissà che operazione, tocca iniziare a fare live di due ore al giorno, no, no, che dico pazzo, divento pazzo, graficozzo Phantom, rimbalzo dump, vediamo, non ci sono i migliori presupposti, perché abbiamo perso un supporto a 3.100, e sembra che ci si sia creata qua una sacca di offerta, quindi, non saprei, il rischio è che arrivi un po' giù di qua, 1.700, ed intorni, tac, vediamo, 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 allora, intanto, perché WWS dump, mentre Cake no, hanno tokenomics completamente diverse, cioè Cake è già da anni, che c'è, all'inizio era iper inflattivo, anche Cake, poi hanno introdotti Burn, hanno aggiustato il tiro in corso d'opera, hanno avuto più fortuna, perché hanno lanciato in pieno bull market, WWS è ancora molto molto inflattivo, di solito queste piattaforme di DeFi, che fanno liquidity mining, nelle fasi iniziali sono estremamente inflattive, proprio per attirare liquidità, quindi sono i momenti peggiori per holdare il token, tendenzialmente, ma lì basta proprio andare a vedere la tokenomics di, come si chiama, del token stesso, cioè il rilascio, eccetera. Buonasera Luke, quanto hai alzato oggi in panca? Devo ancora andare, tra l'altro oggi ho proprio panca, sono esaltatissimo, ma com'è possibile che Algo sia ancora dormiente? Allora, Algo è dormiente, è vero, ma perché anche lui ha una tokenomics molto particolare, c'è una tokenomics che disincentiva i pump, appena c'è un pump viene incentivato a essere dampato, perché il vesting viene ridotto, ma al di là di tutto, il valore, cioè si sta creando l'ecosistema DeFi, quindi io lo sto seguendo, ancora non c'è, ma sono interessato a FOLKS, c'è Yieldly, c'è tanta roba in arrivo, e non vedo l'ora di vederla, tutto lì, e quando la vedrò ne parleremo, ci farmeremo, eccetera eccetera, ma il token Algo non l'ho mai holdato, non credo che l'holderò, ci ho fatto anche un video, per chi è interessato ai fondamentali, al discorso tokenomics, eccetera, dove siamo finiti, con Bybit che è sceso un po', secondo te conviene caricare un po' nel launchpad, intendi Bit, presumo, ma guarda, questo Bit, è una coin interessante, da affiancare alle altre exchange coin, perché ci sono interessi abbastanza grossi, quindi anche l'idea di giochicchiarci, con un pack eventualmente, o quello che è, potrebbe non essere una cattiva idea, per proprio mediare nel tempo, è nuova come coin, insomma, poi, il discorso dei launchpad, chiaro, il launchpad nei bear market, parlando di un eventuale bear market, anche, performano peggio, non faranno più i 100 per, però adesso c'è questo nuovo, run, che in realtà è un launch pool, che è ancora in corso fino al 26, il launchpad, c'è questo qua, easy, che se non erro, è stato listato proprio oggi, a proposito, quanto, quanto ha fatto, per curiosità, perché questo è un periodo, in cui potrebbe essere un benchmark, a capire, allora, il prezzo iniziale era 0.02 bit, bit cos'è? 1 dollare 80, facciamo due calcoli insieme, allora, 0,02 per 1.80, fa 0.036 circa, e adesso è stato listato a, parapapapa, easy, dove sei, dove sei, ordine alfabetico, questo sconosciuto, no, eccolo, siamo a, 0.2, e beh, insomma, 5 per, 0.036, 0.2, sticcate, insomma, non è ancora malaccio, sì, direi che questi launchpad, pagano sempre molto bene, e, tra l'altro, l'allocazione, dovrei vedere l'allocazione, che sono riuscito a ottenere, ma, non è neanche malaccia come allocazione, è meglio di Binance, cioè più generoso di Binance, ma probabilmente perché ci sono ancora meno partecipanti, ma tendenzialmente, conviene detenere qualche bit, per partecipare almeno ai launchpad, perché pagano bene, pagano bene, questo qua, 0.2, sì, se facciamo il conto, 0.2 diviso 0.036, fa 5.5 per, e in questo periodo di carestia, non è affatto male, direi proprio di no, allora, graficotti, BTC, l'abbiamo già visto, abbiamo già detto tutto all'inizio, di tutto e di più, perché il daily non ci dice nulla, indebolimento dell'offerta, l'RSI, a proposito, inizia a dare qualche segno interessante, oppure no? No, purtroppo no, speravo in qualche divergenza, ma sul settimanale, le uniche divergenze che abbiamo sono Berish, che miseria, queste qua, tac e tac, purtroppo, sul daily, è ancora presto, secondo me, per parlare di divergenza, perché qui abbiamo un, sì, così, ma non lo so, è un pelo forzata, un pelo forzata, sta di fatto che, sì, volendo essere bullish a tutti i costi, l'offerta si sta un po' indebolendo, speriamo che all'improvviso non ritorni a bastonare, preferirei che lo facesse la domanda, fai la brava, fai la brava, poi, ETH, invece, non male, perché ETH BTC è dominato dalla domanda, guardate le shadow sotto, come sono imponenti, abbiamo un lower high, higher low, quindi una sorta di triangolo, vediamo come si risolverà, nel frattempo è schiacciato all'interno, dei suoi supporti e resistenze, ma il tutto, in un quadro decisamente bullish, quindi, pistola alla tempia, questa potrebbe essere, post breakout, un'accumulazione, eh, tanta roba, ETH, tantissima roba, non c'è male, non c'è male, accumulazione, segni di domanda, ce ne sono, quindi volendo, si potrebbe anche azzardare, il long, con lo stop, in caso di rientro, in questo range, sotto gli 0078, non è malaccio, tentazione, 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 cipino mio, cipino mio, allora, Yorn, cosa combina? Yorn che pompa, qua mi son perso sicuramente qualcosa, ma per il resto, il mercato è quello che abbiamo visto, c'è il coin, in trend, comunque, abbastanza, ritracciato, ritraccioso, a parte, lo zoccolo duro, dei layer 1, 2, con qualche, anche sporadico, tipo Yorn, ma tendenzialmente, la situazione è un po' quella, tac, poi, andiamo a vedere, le trending, e ci cadono gli occhi, proprio, vedete, cioè, c'è sempre da buttare gli occhi giù, dalla finestra, quando guardi sta roba, e io, quando le vedo, dico, ma, sicuramente, il bear market, ce lo meritiamo, e se il bull market continua, non ce lo saremo meritati, non lo so, io concludo così, direi la live di oggi, le riflessioni che vi ho fatto all'inizio, ve le ripropongo, sugli NFT, metaversi e simili, che reputo estremamente estesi, quindi, davvero, fatemi sapere anche nei, nei commenti del video, quando lo riposto su YouTube, perché, sono curioso di sentire anche la vostra, detto questo, io vi faccio un carissimo saluto, questa settimana ci vediamo, tipo tutti i giorni, perché, domani abbiamo la, vabbè, il video che vi ho detto, le 5 cripto per il 2021, bollente come video, e abbiamo anche la live con gli amici di CoinSquare, con Marco, con tutti, tutti gli Avengers, insomma, poi, mercoledì, ci rivediamo live, giovedì, abbiamo un'altra live, con quei pazzi furiosi di Hard Rock Crypto, Emiliano, Marco di Mind the Chart, Ale di Crypto Ita, sarà una combricola folle, pure quella, e inoltre, la quarta puntata del corso di DeFi, parliamo di Dex, tutorial pratico, tutto, tutto sui Dex, quindi ragazzi, mi raccomando, per il 2022, non 2021, avete ragione, mi raccomando, continuate a studiare, approfittate di questi momenti, piacchi, per studiare, è importante studiare, è importante formarsi, adesso che non c'è la FOMO di perdere il treno, cosa folle già di suo, ma adesso, non è, è ancora meno presente, questa mania, no? bisogna mettersi lì e studiare, io vi sto piazzando lì un mattonazzo di corso di DeFi, che vi servirà, spero, e quindi approfittatevene, sparatevelo tutto, mentre siete in palestra, mentre cucinate, mentre siete con vostra moglie, a guardare la tv, voi vi mettete gli airpod, cancellazione rumore, e ascoltate il corso di DeFi, e le fate sì con la testa, quando vi chiede, hai visto, hanno eliminato il tizio dal grande fratello, e quindi siamo assolutamente sul pezzo, ragazzi, vi saluto, ci vediamo domani, e fate i bravi, e alla prossima, ciao a tutti!